Enrico, un ritorno che in un primo momento non si era concretizzato, ma un ritorno a casa dove voi avevate già operato e siete pronti per cominciare già a settembre. Sì, siamo molto felici di poter ritornare all'auditore Umbertoli perché era per noi stato lo spazio quando ci siamo insediati qui a Sassuolo nel 2016, c'è stato il nostro spazio per tutti gli anni pre-periodo lockdown per i nostri laboratori, quindi noi siamo prontissimi perché comunque ancora prima di avere questa bellissima notizia ci eravamo già attivati perché in qualche modo saremmo rimasti comunque ad ogni modo su Sassuolo, quindi siamo molto pronti. Da subito voi avete avuto alcune decine abbondanti di partecipazioni, non avevate un luogo dove fare delle cose, infatti per fare quelle un po' più impegnative vi appoggiate a Casa del Grande? Eh sì, infatti è quello lì, noi già a luglio abbiamo fatto queste pre-iscrizioni e siamo andati quasi a un centinaio di persone che sulla fiducia, questo per noi è stato un segnale fortissimo, è anche quello che un po' cercavamo di capire se ancora su Sassuolo, al di là del luogo, le persone avevano voglia e volevano continuare con noi in questo periodo in particolare e quindi questo qui è sicuramente stato un segnale incredibile e sì, esatto, su Casa del Grande, dove noi abbiamo origini, continuiamo a mantenere un po' gli eventi grandi come ad esempio il festival L'Aria Aperta di Altro Festival che è questo festival che abbiamo fatto quest'estate, anzi stiamo facendo in questo momento, che ha ottenuto anche quest'anno il riconoscimento del Ministero della Cultura di cui siamo molto molto orgogliosi anche questo, infatti sono notizie che arrivano tutte queste settimane di cui siamo molto orgogliosi. Da settembre, dopo la metà di settembre, ripartiremo con tutti i nostri laboratori e corsi rivolti a tutte le tace, quindi bambini, ragazzi, adolescenti, adulti, quindi un'offerta proprio a tutto tondo con i laboratori teatrali, i corsi teatrali e poi anche a seconda delle situazioni generali inizieremo a metterci in rete con le scuole con cui già abbiamo una rete molto fitta e costruita in questi anni e consolidata e con cui inizieremo anche a progettare delle attività al mattino, al mattino rivolte proprio alle classi per poterle un po' portare fuori dalle scuole e riprendere un po' questa attività di socializzazione attraverso il teatro. E nelle nostre intenzioni ci sarà anche quella di fare dei weekend, degli appuntamenti nei fine settimana in sinergia con le altre associazioni del territorio, quindi non solo teatro ma anche musica ed eventualmente danza se ci fosse la possibilità, quindi di creare degli appuntamenti nei fine settimana aperti a tutta la cittadinanza e attenderemo un attimo le regole per capire cosa si potrà fare, però le intenzioni sono queste, sicuramente da settembre i corsi teatrali partiranno.